Musica Signori benvenuti e benvenuti in questo fantastico nuovo episodio di ragione a cose su Rainbow Six Siege Oggi ragazzi torna CiccioGamer89 e torna con un video con titolo Quante cose da imparare su Rainbow Six Siege E noi gliele andremo a far scoprire Ovviamente ragazzi vi ricordo prima di cominciare che sto facendo tutte le reazioni in live su Twitch Sono in live su Twitch ogni giorno dalle 15 in poi tranne domenica Qui c'è la chat che vi sta salutando, ricambiate Inoltre vi ricordo che faccio coaching privato Se volete info per quanto riguarda il coaching privato Mi iscrivete su Instagram nei direct in privato E ora ragazzi un bel mi piace, un commento, un'iscrizione e andiamo col video 3, 2, 1, let's go Ragazzotti Ragazzotti Allora Ciao Ciccio Bacino Vabbè siamo bronzo metà poi dopo ve lo faccio vedere Bronzo metà Tutto Bronzo metà un bel range Ciccio chiamere 89 otterrete il Ciccio Sì 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 Ciccio Allora Credibile Siamo con Echo Ormai abbiamo capito che Echo is the life, is the center, is the too much light Veramente Oh gli esce comunque sempre Canel Che è abbonato a Canel C'ha un'associazione chiamata Canel Corporation Allora Mi prendo Siamo 5CV5 quindi non ho perso nessuna kill di nessuno E me ne sto qua Ok Lui tranquillo Si è messo un po' di merda lì eh Perché secondo me se gli entrano da verdi e lo pushano lo ammazzano Però Vabbè Bravissimo Vabbè vabbè Allora Credo che qualcuno Sia morto L'associazione Canel Gamer 89 Eh può essere quella sai Allora però sono uno a uno Lui è messo Vi ripeto Merda Una merda Con calma Penso che Kyde morirà a breve Antoine Ragazzi sta facendo le kill Eh Sì è pazzo crevato il tipo Io mi faccio gli affari miei Allora vediamo Quello è un coglione ragazzi Tanto il cielo L'abbiamo appena capito Ma gli sarei uno da verdi Addio Eh vedi Edoardo Che tu ne sei a pacchi Hai detto quello che ho detto io Quindi tu Hai ragione Allora 3v3 Ecco Ciccio Sei morto Oppure no Sì Ciccio con la kill Allora sinceramente non ho capito Che cazzo abbia fatto Sinceramente Però a noi va bene Cioè ragazzi Ciccio non muore È il nostro eroe È il nostro Deo Notturno Quindi è giusto che sia così E non deve morire Ok Lui sta facendo una pennichella Messo qui Merda Ma cazzo hai fatto ammissare Bravo Ora devi andarci Bravo Bravo Ciccio Vai Bravo Un altro Un altro Sta plantando Ciccio Nice try Nice try Ciccio Allora qual è stato Qual è stato Doveva subito Pushare come Poi ha fatto Perché io vi ricordo Che lui ha gli auricolari In le orecchie Che mi sente Quindi ogni cosa che io dico Lui dice Ah minchia cazzo E la giusto Ok Solo che qui Cosa è stato Cosa c'è stato E dopo che ha ucciso Ash È riuscito Per capire Eh ma stanno plantando Sino Appena non ha visto Quello che plantava O comunque Non riusciva Non riusciva A ammazzarlo Devo rientrare Ritornare indietro E tranquillizzarsi Invece ha pushato Completamente Oh Cazzo me ne fotte Boh Così Si sta dentro Mannaggia la trottola Sta bronzo a metà Bronzo a metà Metà Si si Antoine ragazzi Ne sa Poteva andare meglio Forse dovrebbe diminuire Un po' la sense L'ultimo potevo stare Un po' Ma io ogni volta Che lo sento ragazzi Lui lo vuole aumentare Con cucciarmi Mettere il Buola farà la tripla Si si Vabbè il tipico Giocatore Buola farà la tripla Si Comunque ragazzi Il suo l'ha fatto Quel piccolo errorino Ma è perché ha avuto La cosa di voler Per forza fare le kill E tutto Dai ci sta Ci sta Ci sta Nulla da dire Dai Oddio l'ho detto Quello però Oltre quello Nulla da dire Tutto rotto eh Cioè non è che Allora Fatemi sistemare Ma senza ragazzi Purtroppo Se facesse il mio coaching Gliela farei trovare In un secondo La sense perfetta Ma Non vuole Non vuole fare il mio coaching Quindi niente Io gli avrei fatto trovare La sense perfetta Non lo avrebbe mai smirato Un po' così Ma invece Questo è un po' così Non ci possiamo fare niente ragazzi Ci possiamo fare niente Questo non è male Allora Ovviamente ragazzi Le cam Lui ha preso Valkyrie Le cam le ha messe bene Quindi stanno là Qua Allora la cosa qua Qual è ragazzi Che Sono tutte messe bene Tranne questa Non l'ha Questa Qui Sapete perché Non è messa bene Perché Qui È il range Dove loro Gli avversari Tirano sempre Granate Tutti gli esplosivi possibili Perché devono rompere il mute Quindi metterla qui sopra Appena qualcuno lancia una granata qui Per rompere il mute Tom Zofia Esce Scoppia anche la cam Ok Quindi magari Io l'avrei messa un po' più lontana Perché nel range Dove loro lanciano cosa Ok Quindi questa Molto probabilmente Potrebbe essere distrutta Sicuramente staranno sopra C'è se facesse il coaching di raids Da bronzo metà Sarebbe subito smeraldo metà Sì sì C'è sempre il metà Importante Ok Io sto tranquillino Qui dentro Tranquillino Piccolino Oh raga Le classiche parole Io sto tranquillino Guardate la faccia di ciccio Mi sembra forse una faccia del Io sto tranquillino Ho una Mi sto cagando addosso Sono morto Le classiche parole Eh sì Esattamente Ah è back No Vabbè ciccio Penso di aver preso solamente il metallo A questo punto Sono stato Guarda tu hai preso una cosa Che poi Ne andremo a parlare Una cosa l'ha preso Ma non penso il metallo Cioè si potrebbe definire come metallo Dipende dal Soggetto Ok E dalle competenze La bellezza Diciamo Chi ha il Individuo Però Qualcosa l'ha preso Ho questo Bisogno Mi sembra un po' preoccupato Grazie per lo screen Quando volete ragazzi Che è l'unica cosa che Ragazzi è vallea non ram No raga Vallea è su confine Ci sta Poi essere vallea Potevo fare una Chilletta carina Non gliel'ho fatta È morto sopra Eh ma quanto conviene andare Che poi raga Era palese Il problema è che Di mettersi lì Che si chiama Pipes Quella parte lì Quella stanza Il problema è che Salgano sopra E ti bucano Quindi era ovvio Ok Era la prima Reaction oggi Sì Questa è la prima Ti devo dire Vabbè che finché perdono tempo Ragazzi stanno a 3-1 Cioè 3-1 Che gli freg Oh 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 Ok Bravo Eh 2-1 ragazzi Questo Attento che questo Potrebbe essere avversario No Ok L'hanno pingato verso Trench Sì è lì Ah bellezza Tanto Io ne frega niente ragazzi Che è pingato di rosso Lui è indemoniato Stavo scherzando Per ogni cosa che dico Succede il contrario Comunque una soddisfazione C'è anche se crepo Io comunque metto Queste piccole telecamerine Che mi danno una mano Cici E va bene così Gioco di squadra Allora Non sta giocando malissimo Purtroppo qui era molto Io metto No questa fa schifo ciccio Vediamo le camera Ragazzi Vediamo dove le mette Qua non la metterei Sinceramente Che è un po' Pffa Ok Mi sa che Hanno tipo push Ah le ha già messe Sono un coglione Perché taglia ragazzi Non capisco Niente L'abbiamo visto solo Ops Probabilmente Allora qui ragazzi Io non mi metterei mai Perché qui secondo me È una posizione di merda Perché tu sei Chiuso Perché se ti rompono sopra Devi per forza salire E sopra Ci potrebbe già essere qualcuno Quindi in questa posizione Secondo me è una posizione di merda Ok Fai finta Ti push Da sopra Tu vuoi scendere Comunque sei chiuso Quindi io qua Non mi ci metterei mai Ma proprio mai Perché loro stanno già sopra Perché quando parlo Succede proprio O succede il contrario O succede quello giusto Che vuoi dire Grazie alla micchia Lo so Madre di dio Rega che bravo Io non l'ho proprio sentito Che bravo Pensavo che fosse uno mio Vabbè le mie Classiche figuracce Le devo comunque Vabbè qua ragazzi Sono nel posizionamento Sbagliato Non ci si mette mai lì Perché avete capito Perché Che bravo Minchia ho fatto un calzo Quello con Figuraccia Fatemela fare Cioè Non è che posso far Tutte le partite perfette Questo non l'ho sentito Ragazzi Non mi aspettavo L'unica porta che c'era Non l'ho sentito Con tutto quel cazzo Che bordello Pizza cartoon Si fa Udan Prima di se si è andata La cam zoomata Almeno non devi alzarti Di 15 centimetri Eh perché sono cresciuto Tritatelo Bravi 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 Allora Dobbiamo capire Se siamo Allora lui è zero Anche ad attacchiare Ok Più chiaro Se io Faccio qualcosa Vediamo come lo usa zero Nel senso Come faceva essere Un suo compagno Ma sono discorsi Che Edoardo Ma Noi non possiamo Saperlo Io Più possibile Qualcuno qua Si affacciava Anni che è Stol E' una bella Il fatto sapete qual è Questo a me da fastidio Quando io becco Vado a giocare in solo Q E becco le persone Che fanno questo Io mi vorrei girare E gli vorrei strizzare Talmente tanto i capezzoli Maschili Da farli piangere Ok Si Il fatto qual è Che se tu Cominci a rompere A destra e a sinistra Le porte E' una bella Mi rompi anche i coglioni Quindi rompi comunque Una o due cose Le rompi Ok Perché tu qui Hai sparato a cazzo di cane E gli hai creato un buco E gli hai creato un buco Quello avversario Che sta difendendo Vedendo il buco Neanche deve rompere E tu gli hai già creato Gli hai appena creato Una linea di tiro All'avversario Che Passa Vedete nell'oblò Ma che cazzo Non lo so Ho visto qualcosa Quindi ci sta Il radio Quella parte Là O direttamente Da giù All'entrata principale A sinistra Ma non da quelle porte Lì che è osceno Lui doveva andare sotto Sparare il dardo Ducare il pavimento E rompere il Il kite Tranquillamente Oppure magari Si metteva qui A destra Dove c'è la porta Rompeva la porta Sparava il dardo Dentro questa parte qua E rompeva il gadget Poteva farlo In diversi modi Poteva farlo In diversi modi La rottura del gadget Lì No Lì Non sapeva La porta mai Assolutamente Che lì E infatti è per quello Che vi dicevo Si ok In attacco Ciao Jack Come va Io ci sono crepato Malissimo qua Poi 5 Ah perché c'è il defuser Messo lì E vedi Neanche lui lo sapeva Quindi è un'ottima giocata Quella là Del Del bro A fare così Veramente ottima Bene Comunque anche se Prendo schiaffi A me tra virgolette Va bene Perché comunque Cerco di imparare Ora Dobbiamo E qui la Jack Io non ho sentito niente Stiamo brillando E per noi Intendo io Ovviamente Che Alla stanno 3-1 Dare una mano In attacco Loro sopra Hanno vinto Ora andranno giù Che io sto Giù Lui dice Cosa potrei prendere Eh ragazzi Allora il problema E allora il problema Che loro hanno Il kide Quindi ti serve per forza O ace Cioè scusami O termite O ace Ok Quindi io prenderei Uno di quei due Oppure se non C'hanno il kide Prendi quello che vuoi Non l'ho utilizzato Tutto bene Jack Tutto bene Così Ok Perché il fatto Qual è ragazzi Lo lascio parlare Il fatto Qual è Fuse Allora Sì Puoi usare Fuse E sperare Di colpire Il kide Capito Però devi sperare Di colpirlo Dipende come rimbalzano I pallettoni Un po' così Però Ehm So sempre Nella speranza Di farlo Però Magari L'ultimo è kide Non lo so Il fatto è che Raga hanno valkyrie Quindi avendo valkyrie Sopra bisogna stare attenti Ai c4 Noi dovremmo entrare Quindi lui ha preso fuse Deve stare attento ai c4 Ok Io qua ho una finestra Ma non mi conviene Però devo per forza Andare sopra ragazzi Beh Deve dronare Cosa che non fa Mai ragazzi Ma che va Ci muoio Ma perché Vedete ragazzi Questa cosa che dice Valkyrie Va ci muoio Ma no Perché poi ci muore E si lamenta Giustamente Ok Perché è morto A cazzo di cane C'hai un drone Drona Che ti costa aspettare 5 secondi Per dronare Cioè drona Perché poi Se lui muore Gli lascia comunque In tre Perché già so quattro Cioè questa cosa Non è Non va bene E vabbè Ma che vada ci muoia Ma no Ci muoio Ma no Ma che gli scorsi sono Cioè drona un attimo Che poi ho Ma avete scritto Pure nei commenti Molti M'hanno scritto Porco due Ma in difesa Drona come un toro E in attacco Non drona mai Che dovrebbe essere Al contrario Non lo so Perché in attacco Non drona Davide Non lo so Cioè O se era fatto Proprio di Nendovena Pesante Di camomilla Quella proprio Sticcata Però Che fa l'effetto Al contrario Davide Davide Vabbè Particolare Sto uomo La merda Dai Briccia Briccia Lec 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 La botola dietro Ciccio La botola 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 ciccio Peccato Eh ragazzi Ha un drone Lo dico così Ma voi sapete Io ho capito perché non drona ragazzi Io ho capito perché non drona Io ho capito perché non drona Sapete perché non drona io l'ho capito finalmente E sono stato stupido fino ad ora Ma sapete perché non drona L'avete presente nel tennis I tennisti quando sono in battuta Che devono tenersi Si prendono tre palle Controllano fanno finta di sapere che cazzo stanno facendo Dopo un po' che controllano Ne buttano una L'altra se la mettono in tasca E con l'altra Per poi Non è che usano quella in tasca Si prendono un'altra e cominciano a fare Ne levano una E se ne mettono una in tasca Pure se non gli servirà un cazzo Lui è smart Siamo tutti noi coglioni Lui è l'unico che ne sa a pacchi Lui si vuole tenere quel drone in tasca Ora non si sa perché Perché ancora non ho capito perché cazzo Quelli del tennis non usano la terza palina Che non usa mai nessuno Però Lui imita Non ha senso Non capisci un cazzo Ok C'è Ai 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 Non l'ho appena spiegato È andata malissimo Neanche benissimo È per questo che non è un drone Eh loro sapevano dove stavo Giustamente Dai forse regà Lo so che è difficile Perché è difficile entrare qua Però che devi fa Dronare Allora ragazzi vi dico Sono in difficoltà Perché pure loro a difendere Sono bravi Ok E non sono sicuramente Il jolly che in questa partita Farà vincere la mia squadra Non credo A differenza magari di Ad esempio qui Piccolo consiglio che vi posso dare Non uscite mai da qui Come Antoine Ci c'ho un Ci c'ho un game Mai Perché il problema ragazzi È che da qui Vedete quante cazzo Di finestre ci sono C'è Capite un attimo Cosa c'è davanti C'è Narnia Ok Se sembra tipo Monster and Co Le 300.000 porte Che cambiano Guardate quante ce n'è C'è Avete Talmente tanti Spawn kill Possibili Che vi possono fare Che uscire da qua C'è Uno Due Tre Quattro Qui dietro sto mirino C'è pure un'altra porta Capite un attimo Che Io sarei uscito Da sinistra Non da destra Non uscite mai Da qua Ok Ma Sono state le ranked Benissimo Vi ho beccato solo tre cheater Qua pure Ragazzi Ora mi dico Minchia ma stoppi sempre Ho capito Qui ad esempio Lui Ok finalmente drona Ma guardate dove cazzo drona Con la porta davanti Cioè Quello arriva Vede una testa Che sta giocando A Brawl Stars E l'ammazzo Ok Cioè io ve lo devo dire Nel senso che stoppo sempre E Succede a volte Che non stoppo E poi ci sono cose In successione Che devo stoppare Ok Ok Ma devo Devo Oh Quello con la pistola Pazzito 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 Gravato Il fra Il fra Ragazzi ne sa Pacchie Il fra Ne sa Io voglio pulire Un attimo Allora quello che dovrebbe fare Ciccio cos'è Visto che hai Doccaebi E visto che uno di loro È morto Se quello ovviamente Perché non lo so Dove cazzo sta Se quello contro È morto Fuori il site Dovrebbe andare a prendere Il telefonino Per prendere le cam Sopra È a sinistra Ehm Oddio Potrebbe Potrebbe benissimo Andare a prendere il telefonino Perché Loro sono nel site Mappe E lui è sopra Quindi io il telefonino Ci proverei Ok Forse così è un po' Too much Ma Sì è buono Non so se c'è qualcuno Sopra Se c'era Gero morto Vi dico la verità Ora qui Sapendo Anzi Avendo visto Che Ci sono i suoi compagni Che sono scesi da lì Da scale Lui Ovviamente capisce Che lì non c'è nessuno E quindi può andare a prendere Il cellulare Solo che lui non è Non sa neanche Che deve andare a prendere Il cellulare ragazzi Per L'abilità Io comunque lo sento eh Quello è il problema Fammi far così No è morto pizza Ragazzi Domanda Mi dovete scrivere tutti Sia in chat Che siamo in live Sia su youtube Quando metterò il video Ok nei commenti Qual è Oh voglio Vedere tutti i cazzo Di commenti Ok Perché è una cosa importante Nella vita di un uomo Che fa la dieta Ok Qual è il vostro Sgarro preferito Voi fate finta Siete a dieta Qualcuno c'è Avete un solo sgarro Alla settimana Che non vuol dire Tutto il giorno Vi va ammazzate Uno solo O pranzo O cena O colazione Uno solo Uno sgarro Che può essere Una cena Un pranzo Una colazione Una merenda Qual è il vostro Sgarro Preferito Oh sta prendendo C'è i cellulari Uuuu Li ha presi Li ha presi Ok Sono loro Sono i cellulari Ok Ha preso le cam Che vi devo dire Che tutto son male Che cazzo ne so C'è una vita triste Allora Hamburger e birra Best of Ok Carbonara A pranzo Ok 26 secondi Sono pochi Io ragazzi ne ho una Devastante Che poi ve lo dico Alla fine Antoine Ragazzi ne sa Pac Antoine non ne sa Per niente Pac Mi hanno dato il pac Antoine No no Qui 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 ragazzi ad esempio Col disinnescatore Dove andare a plantare Più dietro Qui c'è la scrivania In fondo a destra Si può nascondere Qui è in mezzo A tutti E basta che escono E l'ammazzano Ok Ti provo Ok Meno male GG Vi dico Ho sushi Ho you can eat Ho pizza Con peperoni Pancetta Mozzarelle Cipolla E birra Ok Me ne posso rispondere Lo sesto non se lo fa Che vi devo dire Let's go Pizza con di tutto sopra Oppure sushi a manetta Qualcuno ha fatto L'ho tritato su quelle maledette scale Ah Però è bello essere utili Non ho detto Essere il jolly cardine Ma essere utili Allora Non ha giocato malissimo Ok Non ha giocato Ha preso il bronzo 2 Complimenti Non ha giocato malissimo Ha fatto quegli errorini Che vi ho detto nel video Ancora Devo un attimo capire Come funzionano Per gli operatori Perché a volte Magari prendo operatori Senza capire Perché li ha presi Ok Io voglio prendere zero Ma perché in questo round Sei utile con zero Ti serve Sì no Ancora questa parte Non ce l'ha Però Sta migliorando Quindi GG per ciccio Complimenti Per quanto riguarda Il mio sgarro Ragazzi Allora Io Se devo fare uno sgarro A settimana Io vado di pizza Ok Cioè se tu mi dici Oh dobbiamo sgarrare Pizza Ok Ora Ho scoperto In questo periodo Che è da noi Da me Da Palermo C'è una catena Che si chiama Magna Roma Che fa le pinze Quelle romane Ok E vi giuro ragazzi Ce n'è una Che è Buonissima Quindi io Al momento Perché a volte cambio Al momento Right now On of Per gli amici della Tunisia Un saluto Pinza romana Madonna ragazzi Proprio la bella pinza Che è così ragazzi C'è enorme Così Cioè Vi giuro Così Rettangolare così Vabbè ragazzi C'è Cazzo Comunque GG Proprio la bella pinza Proprio la bella pinza